La finalità del progetto è quella di avere a Pescara uno spazio per il co-working. Per arrivare a questo c'è un progetto che si chiama Smart Hub, al cui interno c'è un bando per la selezione di 25 operatori che dovranno fare cosa? Queste 25 persone sono chiamate a fare da promotori territoriali nella nostra città, ovvero per promuovere il progetto Start Hub all'interno delle nuove generazioni. Ovvero sono chiamate a fare assemblee, incontri, manifestazioni per far capire ai ragazzi di Pescara cosa vuol dire fare il co-working. Questo è un progetto molto ambizioso che vede il Comune di Pescara come ente capofiglia di un partenariato pubblico e privato molto importante che entro un anno al massimo dovrà definire quale spazio pubblico dare per il co-working. Il co-working è una vera sfida che le città europee stanno portando avanti per far sì che gli immobili, molto spesso in disuso nelle città, possano diventare luoghi di impresa. E infatti il nostro obiettivo è quello di dare anche a Pescara un luogo pubblico dove poter fare impresa a costi molto ridotti rispetto a un affitto privato. Ecco, questa è un'esperienza che esiste già in moltissime città europee. In Italia forse siamo un po' indietro, soprattutto nel mezzogiorno. È vero, in realtà ci sono però dei casi molto buoni anche nel sud Italia. Sicuramente i primi casi di co-working sono stati a Milano e a Roma e sono anche molto positivi. Però anche in città minore e anche in alcuni casi nel sud Italia si sono verificati buoni casi di co-working, soprattutto grazie agli enti locali che hanno messo a disposizione spazi pubblici in disuso, dati alle imprese e ai giovani che hanno bisogno chiaramente di mettersi in proprio.